Poi a lunedì a mezzogiorno ce l'ho dato almeno l'acqua. E adesso siete ancora senza luce? Adesso siamo ancora al freddo e si immagina a corrente senza telefono, c'è il telefonino. Sono andata a farla ricarica adesso. Come essere ritornati negli anni 50? Peggio, ma non so, peggio perché non siamo abituati noi. Ecco, è questa la storia. È troppo il disastro. Ecco, è tanto che ci ha dato, che è arrivato almeno l'acqua perché anche senza acqua. Io cosa ho fatto? Io come mi sono alzata al mattino presto, la prima cosa che ho fatto è che ho detto mamma se non c'è ancora l'acqua, ho riempito più ventre che potevo di acqua, no? Per cucinare, per fare il necessario, lavarsi. Invece a mezzogiorno l'acqua ce l'ha andata. E di sera cosa avete usato? Le candele? Qualcosa? Tutto le candele perché le pire, non le trovavo più, un disastro. Candele, candele, candele. C'è un disagio enorme perché io, sotto di me, c'è una persona anziana che ha 95-96 anni. Insomma, è un disagio enorme, ecco. In questa via qui, in via Gazzano, molti sono anziani e hanno anche dei bambini piccoli. E quindi è un grosso disagio, poi con queste temperature. Il sindaco del paese, Giampaolo Fornasari, si è detto davvero molto arrabbiato per la situazione di disagio dei suoi cittadini. Siamo con il geometra comunale Cagni. Come è la situazione? Abbiamo due o tre problemi a Pianello ancora da risolvere con quanto riguarda Enel. Abbiamo appunto qui a Via Gazzano, dove ci sono ancora alcuni condomini che vanno alimentati. Abbiamo due località ancora senza corrente. Dei contatti che abbiamo avuto sono che tutti gli operatori Enel sono in giro e stanno pian piano alimentando le varie situazioni. Speriamo in giornata ci dicano qualcosa di concreto, che rialimentino i fabbricati. Via Gazzano a Pianello è una delle aree in cui la luce manca dal pomeriggio di lunedì. Ci sono frazioni senza corrente elettrica e senza acqua anche in altri comuni di Valtrebbia, Valnure e Valdarda. Dopo il fenomeno del gelicidio che ha paralizzato la collina e la montagna piacentina per oltre 24 ore, la viabilità è uscita dalla fase di emergenza. Ora è necessario pulire le strade dai rami rimasti accatastati ai lati delle carreggiate e mettere in sicurezza le aree. Le abbondanti precipitazioni di domenica e lunedì hanno però riacceso il pericolo frane.